Questa è una fra le scene più classiche del cinema italiano, una scena che tutti conosciamo tratta da un film di Vittorio De Sica che vinse l'Oscar nel 1965. Di che film stiamo parlando? Shock! Shock, però lei guarda solamente i film porno e i documentari sul reflusso, scusi. Sì, esatto. Allora, che film è? È una leggenda del cinema italiano. Immaginiamo che lei pensi al giorno di giovedì, essendo oggi venerdì, e poi pensa al giorno di sabato. Giovannone a Cosciolunga. Giovannone a Cosciolunga. Io ho detto che vedeva i film zozzi questo. Allora, giovanotto, ieri è giovedì, oggi è venerdì, domani è sabato. Che film è? Sì, tutto sommato non avrebbe tutti i torti, ma ascolti bene, ieri è giovedì, oggi è venerdì, domani è sabato. Che film è? Domenica. Domenica. Io non so che fare. Lei, lei non è shock per il vestimento. Allora, signorina, lei l'ha capito? Ehm... Meglio, mi sembra. Allora... Sì, cara. Allora, io inizierei con ieri. Prego, cara. Vorrei iniziare con ieri. E poi... Anche... anche domani. Sì, cara. Sì, cara. Sì, cara.